Musica Portiamo un cortometraggio, si chiama Res e siamo entrambi i registi. Il soggetto l'ha scritto lui e poi la sceneggiatura l'abbiamo scritta insieme e l'abbiamo diretto insieme a quattro mani, come un mostro a due teste l'abbiamo diretto. Si tratta di un uomo che cerca di convincere la figlia a rinchiudere il suo compagno. Che ha dei problemi mentali e rinchiudere il compagno della figlia in una clinica. Ci piace un sacco andare in giro e portare in luoghi concreti tipo un bar, una metropolitana, un autogrill, delle situazioni, dei germi di fiction. Cioè noi stessi facciamo dei personaggi e vediamo come reagisce l'ambiente. Quando ero al liceo avevo il gruppetto e suonavo e credevo che fosse impossibile ritrovare la stessa cosa che c'è nella sala prove nel contesto cinematografico. Invece con Filippo è stato così, cioè era come fare un cazzo di giro di basso e lui faceva il giro di chitarra giusto sopra il giro di basso. Così quindi. Per me è un radical shock. Profumato? Quello che dici solito è paratattico? È paratattico cazzo. Grazie. Grazie. Grazie.